Allora mister, siamo alla fine di un allenamento, sicuramente importante, come ha visto i suoi ragazzi? Allora i miei ragazzi sono direi abbastanza approvati da questa prima dieci giorni perché sicuramente abbiamo iniziato con i carichi importanti, quindi sia a livello atletico siamo a buon punto. Abbiamo iniziato il 25 agosto, quindi senza giorni di pausa se non domenica, domenica 2, facendo sabato e domenica doppia seduta, quindi direi che l'allenamento è sicuramente intenso. Stanno un po' accusando i carichi, ma direi che è tutto nella norma. In questo periodo di pre-campionato avete in programma qualche amicheone? Sì, abbiamo già fatto sabato il quadrangolare Memorial Renzetti all'Olmo Ponte, poi dovremmo avere un amichevole sabato, poi la facciamo la settimana prossima con l'allievi B di Mister Rossi e poi dopo ci avviamo verso il campionato. Quanto valgono queste amichevole per l'Amit? Le amichevole sono importanti perché se fatte con il giusto metodo, quindi non affollando gli impegni, direi che sono importanti perché io riesco a capire un po' le caratteristiche dei miei giocatori che non conosco bene ancora e quindi sono importanti per rodare anche certi meccanismi che si fanno solamente durante la partita. Per lei mi è perso di capire che è un ritorno qui all'Academy. Sì, io sono stato qui tre anni facendo la categoria Pulcini. Dopo un tregno ho staccato per motivi personali e poi dopo mi sono ributtato nella mischia. Il campionato come se lo aspetta? Il campionato me l'aspetto molto equilibrato perché è un campionato sì provinciale ma dove i valori sono abbastanza livellati, quindi chi vuole pretendere ad arrivare in cima deve limare gli errori, ecco, perché direi che grosso gap non c'è. Se si eliminano Santa Firmina, Olmo, Ponte, San Giovannese, insomma, ripeto, il livello è abbastanza similare quindi sarà la squadra più brava quella che commette meno errori. E quindi a questo punto le aspettative, sia del suo personale che della società? Allora, le aspettative della società sono sicuramente importanti. Io, per quanto riguarda me, il mio lavoro è sicuramente quello di far crescere un gruppo di ragazzi che è un gruppo importante, sono 22 elementi che l'anno prossimo faranno una Iores, spero regionale e quindi io li devo far crescere sotto tanti punti di vista. Dopo la società si aspetta tanto perché tutti vogliono vincere, ma poi alla fine ne vince solo una, quindi vediamo. Bisogna lavorare, mister. Senza dubbio. Grazie. Grazie a voi.